Altro grandissimo protagonista all'interno di questo Vinitaly 2011 è il gruppo Eno Italia. Qui accanto a me è Giorgio Pizzolo, presidente del gruppo, che state rilanciando in maniera molto forte e vincente, direi, il Soave negli Stati Uniti. Assolutamente sì, la nostra iniziativa è partita due anni fa, abbiamo sempre creduto molto nel Soave. Pensiamo che questo sia il momento per far rivivere il successo degli anni che ha avuto negli anni passati il Soave sul mercato americano. Siamo partiti con una confezione innovativa, giovane, rivolta alla fascia di millennium consumers e stiamo vedendo dei risultati assolutamente positivi. In termini di numeri, a due anni della vostra campagna cosa possiamo dire? In termini di numeri oggi con la bottiglia Sisoave, noi siamo presenti non solo sul mercato americano ma anche sul mercato europeo, sul mercato canadese, oggi stiamo partendo da zero a un milione di bottiglie. Non rimane quindi che assaggiare il Sisoave. Voi in abbinamento a quali piatti, a quali cibi lo proponete al consumatore americano? Al consumatore americano, questo è un vino di tutta beva che va bevuto ovviamente con i piatti leggeri, con i pesci eccetera, ma è un vino anche da qualsiasi occasione, da party, da discoteca anche. Cerchiamo di coprire ovviamente un range molto ampio. La prima reazione che hanno i consumatori americani, soprattutto i più giovani, quando assaggiano il vostro Sisoave sì? Wow, quella è la reazione. Wow, perché il prodotto è stato pensato per un pubblico giovane e quindi è un prodotto di facile beva ma anche importante che incontra assolutamente il loro gusto. Avete anche studiato una forma di bottiglia piuttosto originale, rischiando anche perché è stata veramente una sfida? È stata assolutamente una sfida ma oggi crediamo che sia importante richiamare anche con il packaging il consumatore. Poi ovviamente il prodotto deve essere all'altezza ma quando è richiamato e assaggiato il prodotto abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. E allora non rimane che dire say yes, tu Sisoave. Continuiamo. Grazie.